Il Falchi di Daffi Onlus è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro. Nata nel 2007 e ha come fini sociali la protezione dell'ambiente, la difesa del territorio, la promozione dell'attività di volo, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Essa si avvale dell'impegno di piloti volontari, tra cui anche istruttori di volo, che mettono a disposizione competenze e tempo libero a titolo completamente gratuito, per fornire alla comunità un servizio di elevata professionalità. I Falchi hanno in corso una convenzione con la Regione Piemonte, che prevede la possibilità di effettuare i voli di sorveglianza del territorio, prevenzione incendi, ricognizione a seguito di calamità naturali e tutela dell'ambiente. Oltre al capitale umano di oltre 30 volontari, l'associazione dispone di un velivolo CESNA 172 a 4 posti e di un Fiat Ulisse a 7 posti per l'appoggio a terra alle operazioni aeree. Inoltre, a seguito di accordi e convenzioni stipulate con altre associazioni, scuole di volo, ha a disposizione un parco di aeree ed elicotteri da 2 sino a 10 posti, con un numero di piloti sufficienti a garantire ogni tipo di intervento H24. L'attività di protezione civile non è l'unica prevista dallo Statuto. L'associazione, in collaborazione con altre organizzazioni, promuove il volo per i bambini con gravi patologie, disabilità, disagi familiari o personali, organizzando le giornate piccoli aviatori. L'intento comune di tutti è quello di progettare e realizzare attività di svago ludico ricreative, nella quale i bambini e le loro famiglie possano ricevere aiuto nella difficile e dolorosa lotta quotidiana con le difficoltà, con le cure, spesso invasive, a cui i bimbi sono sottoposti. Durante la manifestazione i bambini e le loro famiglie hanno la possibilità di volare gratuitamente e di sottoporsi a quella che ormai è definita la terapia del volo, provare una grande emozione come solo il volo sa dare, lasciare a terra i problemi e le difficoltà per vivere un'esperienza unica nel suo genere. La nostra associazione, Piccoli Aviatori dei Falchi di Daffi, è responsabile di tutte le attività a terra. Siamo un gruppo di circa 20 volontari, di età molto diverse, e seguiamo i bimbi e le loro famiglie dall'accoglienza sino al termine della manifestazione. Trucca bimbi, maghi, pet therapy e laboratori si alternano durante tutta la giornata, offrendo ai bambini e alle loro famiglie momenti sereni e allegri, lontani dalla routine dell'ospedale o della casa famiglia. Tante persone hanno volato con noi, ma siamo pronti ad accogliere nuove famiglie e associazioni interessate. Il Lions Club è un'associazione che esiste da un secolo ed è la più numerosa del mondo. Il nostro scopo è di aiutare chi ha bisogno e stare vicini alla gente. Piccoli aviatori è possibile grazie ai Lions Club piemontesi che hanno aiutato con sponsorizzazioni, donazioni e partecipazione personale. Durante ogni giornata di volo, più di 100 volontari si impegnano e gestiscono oltre 500 persone. Sino ad oggi, più di 800 bambini hanno volato, partecipato alle diverse attività, pranzato gratuitamente e ricevuto il diploma di piccolo aviatore. Abbiamo tanti bambini in lista di attesa che troverebbero aggiornamento dalla partecipazione a un'esperienza unica come quella del volo e di una giornata all'insegna dello svago e della gioia. Attendiamo il vostro aiuto con donazioni oppure devolvendo il 5x1000 ai falchi di Daffi Onlus. Oppure anche diventando volontario, come ha già fatto il meteorologo Luca Mercalli, che ha creduto in noi, diventando testimonial della nostra iniziativa. Per seguire le nostre attività ci potete trovare su www.lionstorinoeuropa.it. Grazie. Insieme si può volare sempre più in alto. Grazie a tutti.